Buonasera, la puntata di oggi parlerà di inizio vita, riflessioni, sigla. Ben tornati su Medicina Confronto, l'inizio della vita, parliamo sempre di testamento biologico, del fine vita, nessuno parla delle problematiche etiche, le riflessioni anche biontologiche, le riflessioni culturali sull'inizio della vita. Cosa succede all'inizio della vita? Che cos'è questo inizio della vita? Per voi ho portato qui il patologo Roberto Di Pietro. Buonasera, grazie a te. Dicci qualche cosa, cos'è questo inizio della vita dal punto di vista proprio essenziale? L'inizio della vita è una cosa che affascina terribilmente chi ha passato una vita al microscopio ad interpretare, a guardare le immagini statiche delle cellule e a capire cosa andranno a fare. A trarre vaticinio delle volte, sembra. Invece, allora, avendo ovviamente avuto contatti costanti con l'utero, con l'endometrio, con gli embrioni, con gli aborti, eccetera, capita di chiedersi molto, di porsi molto spesso dei perché. Tu su questo stai scrivendo un libro? Sto scrivendo un libro sui problemi, cioè sulla vita prima del parto, prima di nascere. Dovrebbe intitolarsi proprio così. E non dovrei dirlo, ma è nato da un risentimento, da un modo di stizza. Siamo in televisione e si sa che in televisione basta dire con molta autorevolezza delle cose, anche che gli asini volano, e diventano verità. Io ho sentito qualcuno, non mi ricordo chi purtroppo, molti anni fa, dire, ma pochi anni fa, dire e dare per scontato che quello che c'è poi in utero, prima del parto, è mistero. E questa è una frase da alto medioevo, cioè forse a quei tempi si poteva dire questo, adesso non si può dire questo. Questo mi ha fatto riflettere sul fatto che, grazie alla conoscenza di tutti i meccanismi bellissimi, intimi della fecondazione, che oggi sono tutti svelati e conosciuti in tutti i particolari biomolecolari, e poi da una ventina a una trentina di anni fa, a questa parte, la finestra virtuale dell'ecografia sull'utero, ci fa conoscere tutto, 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 quello che accade in utero prima del parto. E molte cose che classicamente abbiamo riferito al parto, al momento della nascita, sono cose nate che esistevano prima, nei mesi precedenti, e che sono riferibili ai mesi precedenti. Questo è appassionantissimo. Io sono partito, ovviamente, da quello che mi era più congeniale, cioè dalla genetica, dall'embriologia. Dall'embriologia. E mi hanno sempre detto come patologo che se non conosco l'embriologia non potevo conoscere i tumori, a un certo punto l'ho scoperto ed è verissimo. E molto tardi mi sono goduto, finalmente, uno studio molto motivato dell'embriologia, di tutti quanti, così, degli aspetti dell'inizio, della formazione, della nascita, della crescita dell'embrione. E con questo, cioè, partendo da questo, però, mi si sono aperti interessi enormi di tipo filosofico, e sempre un ambito a metà tra biologia e filosofia, l'inizio vita. Di tipo filosofico, di tipo ontologico, di tipo psicologico, che, dove, ambito nel quale io non entrerò, perché è veramente enorme. E quindi ho cominciato a scoprire, per esempio, soprattutto, che tanti misteri, non esistono, non sono misteri, non ci sono misteri. Ci sono cose di una tale evidenza che non riesco, ancora sto cercando veramente argomenti seri per i quali dire che esistono problemi per quanto riguarda l'inizio, l'inizio, sull'inizio vita. Perché tutto, di una chiarezza, di una evidenza, che contraddice quella maledetta frase che mi ha stimolato e mi ha fatto venire in mente questa cosa, è tutto incredibilmente chiaro. Quindi, il mistero della vita non è un mistero. Ma, più guardi, non lo studi, più lo guardi, più lo vedi, più ti rendi conto che non è un mistero. Questo proposito, però, poi, quando si guardano queste cose, si scoprono delle cose così, veramente grandi, di cui non ci si domanda perché non se ne parli. Per esempio, c'è stata una terribile polemica sulla morula. Cioè, allora, quando si forma la prima cellula, con un nome bruttissimo, zigote, questa cellula si riproduce ed ha la prima identità di cellula del nuovo organismo. Questa cellula, dalla trattata doppia, diventano 16 cellule in giro di 24 ore. Delle prime 24 ore, poi 64, poi 132, eccetera. Questa si chiama morula, l'hanno chiamata un nome un po' così, un po' imbroglione, perché sembra una piccola mora, o una palla da golf, per quelli che non hanno mai visto la mora. Perché sono tante palline, cellule in formi, che non hanno ancora una forma, che sono attaccate fra loro. Vuoi la fotografia? Sì, 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 possiamo vederla. Ecco, ecco qui. Ecco, questo è un disegno, ecco, prima c'è, la prima immagine è quella della prima replicazione, sono due, poi diventano quattro, sedici, e diventano poi centinaia, crescendo esponenzialmente. Se io prendo queste cellule, questo gruppo di cellule, e le rompo, come avviene per esempio nella... Questa è la morula. Questa è la morula. Che assomiglia alla piccola mora. Spacca una palla da golf, gli americani dicono una palla da golf perché non vedono le mora. Ma, ecco, se io la spacco in due, o se si spacca in due, come capita nelle gravidanze, nei gemelli identici, c'è un meccanismo, se vuoi, naturale, per il quale queste cellule, che sono ancora capaci di tutto, di differenziarsi in qualsiasi modo, perché non sono differenziati, sono staminali, appunto. Queste cellule riparano innanzitutto a quel che manca e poi proseguono e poi continuano verso questo ordine assolutamente inderogabile che è quello di andare avanti e di... Replicarsi. Di replicarsi e di percorrere questo percorso finalizzato e obbligato che li porta a creare un uomo. Un uomo. Sì, un uomo. Nove mesi, 280 giorni, qual è? Sì. Qui, se nessuno che rompe le balle, questo diventa un uomo. Come pure, ecco, esatto, è proprio così. Ma questo avviene in tutte le specie, le specie in natura, in qualsiasi tipo di specie. E se c'è un danno, c'è un meccanismo di riparazione che non è più possibile in organismi differenziati come l'uomo adulto, ma è possibilissimo in una struttura, in una morula, dove c'è appunto nei primi 15 giorni. Qui siamo già all'embrione, un po' più avanti. Qui è partito il progetto uomo. Sì, sì, sì. Ma il progetto uomo parte dal primo giorno. Dal primo giorno. Perché è interessantissimo, c'è un lavoro importantissimo, your day from day one. E' un uomo quando ci sono già le cellule che replicano e diventano due. Punto. E' già un uomo. E quando si è formato il suo DNA. DNA. Che contiene tutto il programma della vita. Anche di che tipo di aterosclerosi si ammalerà a 80 anni quando sarà più improntata a teromasica. Tutto c'è scritto. Allora, la cosa... C'è un filosofo, un teologo australiano, che ha avuto molto successo, Norman Ford, che si è detto come fulminato da Paolo sulla via di Damasco perché ha scoperto che se si rompe in due la morula, che è un essere vivente, diventano due esseri viventi. Allora bisogna che quello sia morto. Oppure bisogna che... Cioè, dei discorsi assurdi. Che mi hanno fatto riflettere, capire una cosa importantissima. Ci sono da una parte i biologi, i medici, penso a Dulbecco, mio grande padre, penso a grandi nomi del Premino Belto della medicina, che sono dei grandissimi biologi, ma non hanno competenze di tipo filosofico, ontologico, etico, eccetera, e vengono purtroppo spesso interrogati su ambi di cose e dicono delle cose di una tale leggerezza, di una tale superficialità, che tu, che sei un loro fan, resti così imbarazzatissimo. Dall'altra parte, i filosofi, quelli si elaborano teorie, eccetera, ma scopri che fanno, che procedono per astrazioni filosofiche. Ed è pazzesco. Cioè, adesso, per dirlo in un modo un po' trivial, direbbero gli americani, cioè, per Norman Ford, la morula, la gastula, la blastula, l'embrione, che è documentatissimo, sono concetti, non sono cose, e quindi vengono fuori delle teorie assolutamente impossibili. Quindi, dimentica la biologia, che lì c'è un individuo. Dimentica la biologia. In questo, la mia formazione è quella di chi la cellula ha vista, l'ha toccata, e ne ha interpretato. La cellula è una cosa che si tocca, non è un concetto, non è un'idea. Il filosofo eccellente procede, per carità del tutto lecito da parte sua, procede per astrazioni filosofiche, immaginando e dicendo cose che non hanno un riscontro nella realtà. Quando si è parlato, si è discusso molto per la famosa 194, la legge sull'aborto, e si discuteva di quando si poteva o meno fare, in realtà, l'individuo è un individuo, fin da quando c'è la morula? Ci sono. Hanno già fatto il primo DNA, che poi in 24 ore diventa morula. Quindi è nulla di apporre dei dirimiti. Il problema, si pone in questi termini, nessuno oggi, nessuno nega, nessuno osa negare l'evidenza. Cioè che con la formazione dello zigote è nato biologicamente un nuovo individuo. Questo non lo nega nessuno. Anche se vuoi... Quindi i bioeticisti sono fuori dalla legge biologica. No, la legge biologica è quella... E basta. E tutti, tutti, tutti ammettono questo. Però poi ci sono dei tentativi di ritardare, di dare un'altra... Interessati, o anche se vuoi ingenui, come quello di Norman Ford, di dare un inizio, di segnare più avanti l'inizio della persona, dell'identità di persona umana. Questo va in conflitto atroce con... Cioè si torna, si torna al dualismo tra anima e corpo. Che è una cosa che, per carità, è durata 2300 anni. Adobbiamo al genio di Aristotile. Adobbiamo alla sua prosecuzione, al genio del suo allievo Tommaso d'Aquino. Però, finalmente, per quel che mi riguarda, nel 1930, c'è stato sempre un filosofo, che è Manuel Mounier, che ha detto, Signori, non l'ha detto mai nessuno, nessuno ha mai dimostrato che ci sia una scindibilità tra anima e corpo. Tutte queste teorie tendono un po' a ricadere in questo vecchio errore e a scindere, e poi a cadere, cioè nel dimostrare quello che non è affatto evidente, che non può essere evidente, che quindi non è mai dimostrabile. Ma ci sono moltissime cose, cioè è avvincente. Abbiamo qualche altra immagine da vedere? No, abbiamo visto gli embrioni. Non sono mie, ma sono sostanzialmente delle immagini che riguardano... Di repertorio, insomma. Allora, volevo chiederti questo. Allora, il ragionamento del patologo, che ora è lì, diventa filosofo con gli anni, nei riguardi di questa cellula, dell'evoluzione di questa cellula, che dice, io vedo la persona nel momento in cui abbiamo fatto lo zigote. Sì. Il ragionamento del patologo, forse è questo. Cioè, allora, tutti vedono la persona nel momento... Tutti vedono la nascita biologica di un individuo con la formazione del genoma dello zigote e qualcuno, e molti tentano di distinguere, di spostare in avanti, ma i tentativi sono molto, molto, molto relativi. Quello che credo di dovere alla mia... Forse io do un contributo, un contributo al dibattito su questo, che per esempio, per quanto riguarda la morula, c'è semplicemente un meccanismo di riparazione, che è presente in tutti quanti gli organi, perfino nelle ascidie, che sono il film analogo, cioè, va bene, in moltissimi, in moltissimi animali, e nella fase ancora indifferenziata dell'embrione dei primi giorni. Quindi è un normalissimo, un banalissimo sistema di riparazione. Invece questo ha fatto andare in così... In tilt chi? Per esempio, per esempio, i filosofi che hanno detto, ma se è una persona, poi diventa due, allora non è una persona, oppure deve morire la persona. E lo stesso Roman Ford dà un esempio semplicissimo, e dice, se io stacco un ramo di un albero, lo pianto in terra, lo innaffio, mette le radici, per cui ripara, eccetera, e concludono in maniera agghiacciante dicendo, ma l'uomo non è un albero. Ma lo so anch'io che l'uomo non è un albero, ma questo ordine di riparare per andare avanti esiste nell'albero, esiste nella meba. Sì, questa è la famosissima immagine. E ci sono gli psicologi, esiste una branca della psicologia perinatale, perché anche lì loro non distinguono, non possono distinguere il feto dal neonato, sono la stessa cosa, è la stessa individua che respira quel polmonio con la placenta, tutto qua. E loro, ci sono dei autori illustri, Thomas Verne, David Chamberlain, di cui forse gli ascoltatori hanno sentito parlare, c'è un tedesco che si chiama, vabbè non ricordo, loro hanno definito cose incredibili per quanto riguarda le condizioni psicologiche, cioè la costruzione, le basi psichiche della persona durante la gestazione. E fanno cose, per esempio, appunto su quell'immagine ormai consueta, una volta fu una rarità quando la fece, ricordo che la mostrò in televisione, Enzo Biagi, il bimbo che si ciuccia il dito. Sull'immagine, su questo atto che deve essere per gli ecografisti diventata una cosa abbastanza consueta, su questo atto addirittura la psicologia sta tentando di costruire una fase freudiana precedente, quindi fetale, che precede la fase orale freudiana. Quindi, ma per la psicologia... Se questo feto lo lasciassimo in pace dal punto di vista psichiatrico, psicologico, questo è un uomo, tranquillo, lasciamolo vivere tranquillo. Qui abbiamo due mamme e nonne che sono qui tranquille che ti dicono ma noi abbiamo abbiamo vissuto bene la nostra gestazione, siamo stati bene come nonne, come mamme, ora nonne. Cioè, la gravidanza è una cosa normale, quindi l'inizio vita deve essere vista come una cosa positiva. C'è un'altra cosa interessantissima. Tutte le mamme dicono io ho vissuto bene soprattutto la seconda parte, i due trimestri sull'ultimo di gravidanza e se vai a guardare tutti quanti i meccanismi scopri che c'è il regista che il regista è il piccino che è lui che regola l'organismo materno in tutto. Addirittura il Salvatore Mancuso no, insomma il ginecologo lo chiamava sì, chiamava questa simbiosi materno-fetale in cui è lui che regola. E quella tutti lo sanno quella l'ormone che si dosa che si dosa per monitorare la beta-HCG è l'ormone attraverso cui un cuginetto del cortisone se posso è l'ormone attraverso cui il bambino regola l'organismo materno e quindi la tiene anche su di tono la mamma alla sua nutrizione è il bimbo che fa questo e addirittura è stato fatto uno studio in Australia ma in Australia è una miniera fatto sugli ovini sulle pecore il trigger point cioè lo scatto il primo l'avvio l'avvio del parto è sempre anche quello è pilotato dal bambino c'è una condizione di cortisone di ipofisi fetale che a un certo punto determina determina la 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 nascita quando si dice il bambino non si sbriga a nascere è lui che sta lì sa lui che sta pensando sa lui quando quando deve nascere non ha libero io ti ringrazio di questa bellissima spiegazione tu hai scoperto queste cose ti hanno messo sto scoprendo l'ansia del voler mettere in chiaro tutto questo meccanismo sto scoprendo diciamo che siamo ritornati ai primordi questo bimbo è una persona fin dall'inizio lasciamolo in pace perché diventa un uomo e lui stesso si autopilota anzi si autoripara molto bene specialmente nei primissimi tempi purtroppo il tempo è finito aspettiamo il tuo libro e sarai ancora nostro ospite ringrazio anche il nostro pubblico le nostre volontarie mamme e nonne che ti hanno seguito con molta simpatia e con molto affetto grazie a te per essere stato qui aspetto il libro grazie a te per avermi invitato cari telespettatori alla prossima grazie a tutti